ciao a tutti e benvenuti nel video di oggi andremo insieme a vedere come realizzare questo meraviglioso motivo con questo bellissimo effetto 3d con questo bellissimo volume guardate come questo motivo riesce ad aggiungere il volume al filato è un motivo che si presenta da entrambi i lati nel modo molto bello con una bellissima decorazione quindi è un motivo che facilmente possiamo adattare sia alle sciarpe che ai cardigan ai ponci comunque diciamo anche ai cappellini quando volete fare un cappellino con un bel volume potete andare utilizzare questo motivo che veramente molto adatto è facilissimo da realizzare ma nonostante appunto la sua facilità nella lavorazione riusciamo appunto ricavare questo bellissimo effetto visivo quindi se il motivo vi piace possiamo iniziare andare insieme a vedere ferro per ferro come realizzarlo il nostro motivo è un multiplo di due maglie e di due ferri quindi noi ora per il nostro campioncino andiamo avviare le 12 maglie di cui 10 maglie sono dedicati al motivo e due maglie sono di vivagno per l'avvio andiamo avviare le maglie utilizzando avviare le maglie utilizzando avviare le maglie utilizzando avvio alla nordica come sempre il video tutorial dettagliato dell'avvio alla nordica chi fosse interessato lo trova nella descrizione qui sotto del video oppure sopra nel video consigliati ecco qui abbiamo avviato le nostre 12 maglie e partiamo subito con la lavorazione del motivo la maglia di vivagno noi andiamo a spostare dopo partiamo con il primo motivo e per creare il primo motivo prendiamo in considerazione le nostre successive due maglie che andremo ora lavorare in questo modo la prima maglia della coppia noi andiamo lavorare per un diritto normale quindi entriamo dentro la prima maglia nella sollina della prima maglia e ricaviamo una maglia diritto normale abbiamo la seconda maglia prima di andare a lavorarla noi dobbiamo andare a creare una maglia lunga quindi andiamo entrare nel forrellino in mezzo alla maglia dopo la maglia in mezzo alla seconda e terza creiamo una maglia lunga subito dopo creiamo un gettato e solo ora entriamo dentro alla sollina della seconda maglia e ricaviamo una maglia diritto normale così noi facendo da due maglie noi abbiamo creato quattro maglie di cui una maglia lunga e un gettato e due magli normali lavorati a diritto e questo è il nostro primo primo motivo primo blocco noi dobbiamo continuare così per tutto il ferro per tutto il nostro progetto quindi prendiamo la successiva coppia prima maglia della coppia andiamo a lavorare a diritto normale subito dopo andiamo a creare la maglia lunga entrando in questo spazio in questo modo creiamo tiriamo fuori una maglia lunga subito dopo realizziamo un gettato e solo ora andiamo a lavorare la seconda maglia della coppia con la lavorazione della maglia diritto normale ed ecco che abbiamo fatto un altro aumento con questi aumenti noi appunto creiamo il nostro motivo e il nostro volume prima maglia lavoriamo normale subito dopo creiamo la maglia lunga in questo modo un gettato e solo ora lavoriamo la maglia ed ecco qui che stiamo arrivando alla fine la maglia di divaglio la facciamo a diritto ora noi dobbiamo andare fare il ferro numero due il ferro di ritorno in cui noi dobbiamo andare a diminuire le maglie nel primo abbiamo aumentato nel secondo andremo a diminuire per tornare al numero originale delle maglie aviate la male di vivagno noi la spostiamo prendiamo la nostra coppia ora qui abbiamo le nostre quattro maglie che devono tornare a due entriamo nell'asola delle prime due maglie e li andiamo lavorare a diritto quindi entro in due maglie in questo modo e vado a ricavare da due una maglia lavorata a diritto e successive due maglie li vado unire lavorare a rovescio quindi da quattro siamo di nuovo tornate a due di cui una lavorata a diritto e una lavorata a rovescio quindi partiamo di nuovo andiamo entrare in asola di primo e due maglie e andiamo a lavorarli a diritto ricavando un'unica maglia eccola qua e successive due li uniamo ricaviamo una maglia lavorata a rovescio ed ecco che stiamo creando il motivo e stiamo anche tornando al numero originale delle maglie così dobbiamo andare procedere per tutto il nostro ferro di ritorno quindi il ferro di andata abbiamo aumentato e il ferro di ritorno andiamo a diminuire ecco che stiamo praticamente arrivando alla fine del nostro secondo ferro è anche il ferro conclusivo con il del nostro motivo come vedete davvero facilissimo con questi due feri noi abbiamo dato creato il nostro motivo ora noi non dobbiamo far altro che andare procedere mantenendo alternanza di questi due feri di ferro di andata in cui aumentiamo il numero delle maglie e il ferro di ritorno in cui andiamo a diminuire il numero delle maglie per tutta la lunghezza del nostro progetto ed ecco qua così si presenta il nostro motivo dopo che abbiamo portato per alcuni centimetri la nostra lavorazione come vedete davvero facilissimo con questo bellissimo effetto ci siamo innamorati di questo motivo si presenta molto bello da entrambi i lati qui abbiamo questo motivo più semplice più trattenuto e dall'altra parte abbiamo questo motivo più voluminoso con un bellissimo effetto 3d e dipende ovviamente anche il volume del motivo il suo effetto anche dal filato che andate appunto utilizzare da più grosso oppure da più sottile in entrambi i casi comunque ha un bellissimo effetto speriamo che questo video vi è piaciuto che siamo riusciti a spiegarvi tutti i passaggi in modo chiaro ovviamente se ci sono le domande ponetele qui sotto che cercheremo di rispondere a tutti se non siete ancora iscritti al nostro canale iscrivete per non perdere tantissimi altri novità in arrivo al prossimo video e grazie a tutti per aver seguito questo video